Fari puntati questa sera alle 20.30 sulla Bunghe Ravenna e sul Fortino del Pala di Andrè. Gli uomini di Cocesoli ospiteranno la BCC Castellana Grotte nell'anticipo della giornata numero 8 di Superlega Volley. La matricola pugliese sta pagando il salto di categoria con il penultimo posto a fronte degli appena 4 punti raccolti fino ad ora, mentre la Porto Robur Costa può contare sulle tre vittorie in quattro gare interne maturate dopo il Capol tie-break con Piacenza. In ordine sono cadute Trento, Sora e Padova e con il rientro di Miguel Gutierrez i ranghi saranno al completo per i romagnoli. L'obiettivo è centrare quindi la quarta vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico, che segnerebbe il primo successo proprio contro la formazione pugliese che nei quattro precedenti ha sempre messo alle corde i bizantini. In classifica la Bunghe Ravenna naviga nei piani alti al quarto posto con i suoi 14 punti e subito dietro Civitanova, 15 e precede Piacenza a ferma 12. Va comunque detto che i romagnoli hanno ancora da recuperare la gara contro i campioni d'Italia della Lube il prossimo 22 novembre e potrebbe risultare un vantaggio psicologico a prodare mercoledì nelle Marche davanti in Superlega.